Grazie a tutti per voi, oggi siete veramente tanti e è una gioia che vedete tanti ragazzi, tante ragazze del settore femminile e maschile dell'Asco di qui, perché rappresentate tutti coloro che possano essere. Allora benvenuti a tutti, benvenuti al centro commerciale valorente di Asco di Viceno, oggi è una giornata dedicata interamente a voi, dedicata ai giovani, dedicata al limaio bianco e nero e quindi ci fa piacere vedervi così numerosi insieme ai vostri tecnici, insieme agli staff e insieme ai vostri allenatori. E allora iniziamo subito con questa conferenza staffa, vuol dire che se la prima squadra era stata presentata all'interno della Fireclass dei sponsor, passiamo da un sponsor all'altro perché il gruppo Gabriele è un gruppo che è sempre più importante, ha una presenza sempre maggiore all'interno dell'Asco di calcio e oggi è egregiamente rappresentato dal consigliere d'amministrazione della magazzini di Gabriele, che ha dite la FG Gallerie commerciale SEPIA, Laura Gabriele. Quindi primo grazie e bravo a Gabriele. Buonasera, buonasera a tutti, a me l'onore di dare il benvenuto e di dare gli auguri per l'inizio della stagione giovanile. In questo momento noi anche quest'anno siamo vicini all'Asco di calcio, dico anche perché c'era Paola l'anno scorso, ci vogliamo essere quest'anno e ci vogliamo essere anche in futuro, non solo con il nostro centro commerciale battente che oggi sta ospitando questo bellissimo evento, ma anche con i nostri marchi ausentine. Siamo vigorosissimi, devo dire che è una grande emozione, è la prima volta dopo tanto tempo, diciamo quanto, ma che facciamo un evento di questo tipo. E' bello perché non solo siamo qui uniti in tanti, ma perché è importante il messaggio, lo sport per i ragazzi, lo sport importante per il benessere, per la vita sociale e quindi veder qui tutti questi giovani e con i colori interconetti che sono i nostri colori è una grande emozione. Benvenuto, lo vorrei dare anche al form manager dell'Asco di calcio, alla proprietà rappresentata dal padrone Massimo Puccinelli e dal socio del Marvino Passeri e un saluto speciale alla donna che è alla mia destra, Roberta Puccinelli che sin dall'inizio ha creduto e valorizzato il settore femminile dell'Asco di calcio. Applausi Permettetemi di dire che, come si dice spesso, vicino al di nuovo c'è sempre una grande donna, nel caso del nostro patron, evidentemente non solo la sua compagna diventa la morte, ma la sua zona perché veramente ci ha assomigliato. Quindi grazie, grazie a tutti. Applausi Grazie Buonasera padroni. Buonasera padroni. Buonasera padroni. Buonasera padroni. Buonasera padroni. Buonasera padroni. Ciao. Padroni, il gruppo Gabrielli è sempre più vicino all'ASP in Alcio. Prima la professa Laura parlava di anche Marti, Oasi, Tigre e quest'anno sarà a me su tutte le mani e dell'attività di Paxi. Sì. Paxi. Allora, la scuola non inizia a scoprire, speria di farcela. Se non ce la fai, a un certo punto, lo smetti e lo volvi. Sì, stavo dicendo, io sono davvero fiero e felice. Perché quando sono arrivato all'ASP, mi hanno detto, no, guarda, però i familiari Gabrielli non gli piace il testere nel calcio, non gli piace il calcio, hanno negozi e attività in tutto il centro d'Italia. Io poi quando ho conosciuto queste persone, il fatto che ci sono state vicino, simpaticissime. Non dico che facciamo vacanze insieme, però non ci capita di incontrarci, facciamo pranzi e cene. Di fatto siamo diventati amici che prendono un grandissimo onore e un grandissimo orgoglio questo. vi so farei un grazie gigante a questa famiglia e soprattutto a Laura Bonifina. ovviamente abbiamo piantato dei semi che speriamo che pian piano crescano e ci diano anche una soddisfazione concreta, oltre a riempirci l'orgoglio del fatto che possiamo contribuire alla crescita di questi ragazzi per farli diventare tutti tra gli calciatori o calciatrici. Il fatto di poter essere così vicini ad un territorio così importante che comunque ha una storia indelettrica. che sono 124 anni che stanno andando in questo momento, che esiste l'asco di calcio e credo che sia un motivo gigante. Insieme al socio dell'Avino Passa e dell'Avino Sinistra stiamo lavorando socialmente insieme a tutti i nostri ragazzi, tutti i nostri manager per fare qualcosa di importante. il fatto che i Gabrielli ci siano vicino con il baffente, con l'osino, con te che comunque ha un carattere generale loro come persone e come famiglia ampia. Ricordo un grandissimo amore. Grazie a tutti. Grazie. Direttore generale Bentone, allora il target di riferimento del gruppo Gabrielli e senz'altro quello delle famiglie, delle famiglie e quindi anche i giovani, quanto è importante avere un gruppo così di spicco a livello soltanto locale ma nazionale per trasferirci? Allora io come padrone siamo molto curiosi di questa parte. Ho iniziato due anni fa con l'Avino e con Gesina, che è il Presidente del gruppo, e il loro obiettivo durante l'Avino, quando abbiamo iniziato a fare le responsabilizzazioni, era questo, creare un evento come quello di oggi. Per loro non è importante la visibilità, è importante creare un'alchimia, una grande famiglia come abbiamo fatto oggi, con i bambini, con tutti i nostri sottori giovanili, con i calciatori, con tutto il management. Quindi credo che l'obiettivo sia stato raggiunto. Devo dire che grazie a loro che ci hanno dato questo link in questi anni lo stesso lavoro che stiamo dedicando anche con altre aziende e durante il percorso dell'anno lavoriamo proprio sul territorio, sulla squadra, su tutti i giorni. Quindi è un obiettivo veramente importante e siamo tutti oggettivi. Grazie. Io vorrei Giovanni Ossini qui. Giovanni? Giovanni qui non verrà male, ma sappiate che Giovanni fa tutte le domeniche in cui si gioca in casa in curva, non ha ancora 14 anni, lui che gira per casa cantando i poveri. Quindi potete essere veramente orgogliosi di aver vi avventurato veramente il nostro in casa, un vero orgoglioso. Grazie. Giovanni non sei? Ecco, vai con la prima minuta. Ecco. Vai, dire. Eccolo adesso. Allora, tra poco andremo a sfiduire quelli che sono gli organigrammi dirigenziari sportivi di tutte le squadre del settore giovanile. Avete notato la presenza di tutta la società. Non sono presente al tavolo, ma ci sono l'amministratore delegato Andrea Vero, che sappiamo. E il legale del club, responsabile delle relazioni esterne, Massimo De Santis. Poi presente la bella rappresentanza della prima squadra, a partire dal direttore sportivo Marco Valentini. Un applauso Federici. Un applauso Federici. Il capitano Federico Diunizi. Andre Vero Ghandari. Marcel Gruckel. Giuseppe Benuci. Seri Condò. Il settore giovanile si appresta a ripartire, i campionati ancora non sono iniziati, c'è la primavera però di mister Bergolizzi che ha ben iniziato la stagione perché non è stato iniziato un campionato e scede il campo per ben due volte nella T1K, ha brillantemente superato i turni eliminatori rispettivamente con i Molesi e con Ferrucci ai tempi supplementari e ha guadagnato anche l'accesso ai 32esimi, giocherà in Toscana con l'Empoli, inizierà il campionato il prossimo 10 settembre ma è partito veramente bene questo inizio stagione Bergolino Passeri, lei è socio dell'Ascolipaccio ma patrò della distrette ecologica e crede molto dei giovani, infatti con distretti ecologici vicino a tante realtà sportive e giovanili su tutto il territorio nazionale Assolutamente io, sono felice, sono felice, sono felice, grande famiglia, grande società, mi fa un piacere, un merito, un merito a tutti questi giorni, il nostro progetto, il nostro è quello di creare, come dire, un spazio per tutti i giovani del territorio, noi vogliamo lavorare con tutta la città, con tutto lo scuolipaccio, vogliamo fare, essere la famiglia di tutti questi giorni e poi chiaramente per far creare, per sperare un valore, un giorno, come i nostri campioni che sono seguiti di Camargo, se non ci riescono a fare niente, un giorno, quando le desiderano a divertire, sono niente, saluto a tutti, un abbraccio, sono emozionato di stare in questi giorni, questi giorni, questi giorni, questi giorni, questi giorni, questi giorni, E adesso mi profono al Presidente Neri, Presidente, questi giovani rappresentano il presente e il futuro dell'ascolgiamoci. Sì, buonasera a tutti, grazie per la possibilità, ho conosciuto un bellissimo centro provinciale che è un progetto, è la prima volta che mi capita in un incontro che sono molto, molto, molto contento che sia questo Pagano, questo fracasso, è bellissimo, perché questo ci dà energia, ci dà passione, dà entusiasmo. Io quando ho visto arrivare i bambini e i bambini prima, veramente mi sono emozionato, i bambini ero abituato, le bambine, un grazie ancora Roberta Foscinetri perché è stato veramente emozionante. Quindi siete voi probabilisti, bambini e bambini. Quello che cercheremo di fare, soprattutto di fare di voi, attraverso i nostri centri calzistici, delle bravi bambini, dei bravi bambini, delle brave ragazze, e poi, perché no, anche di diventare campioni come li avete qui. Perché deve essere sempre un sogno, un sogno bello, fatto di correttezza, di sano agonismo. Quindi grazie di essere qui e grazie a voi, giovani. Grazie. Lei ha parlato anche di ragazze, e infatti domenica è terminato proprio il primo raduno per il campionato della prima squadra femminile degli Ascoli, che disponerà il campionato di eccellenza. E allora parola subito alla vicepresidente Roberta Foscinetri, che tre anni fa, non più di tre anni fa, vedeva questa costituzione di una prima squadra come un miraggio, un sogno. Lei si è rimboccata le maniche e nel giro di tre anni è riuscita a creare un mondo femminile che conta quasi cento ragazze. Sono tornate appunto domenica dal primo raduno in assoluto delle ragazze. e come lei diceva che l'importante non è vincere, non partecipare. Lei ha rivoluzionato questo modo di vedere e lei dice che l'importante è vincere e non partecipare. Diciamo quasi da tutti, infatti, il nostro messaggio di ogni saccista viene mandato alle ragazze sui vari gruppi. Siamo venute da 25 circa ragazze iscritte e ad oggi siamo, dopo tre anni, ancora ne va tanto. Abbiamo pure testate che stiamo vicendo, quest'anno probabilmente lo superiamo. a pagare l'emozione e oggi vederle tutte insieme e aver portato a termine un altro soggetto, soprattutto quello della prima squadra, dell'eccellenza. Avevamo delle ragazze fesserate da noi che erano date la sola ciclette perché non adoravano la squadra, non eravamo pronti. Ad oggi siamo pronti e iniziamo con questa eccellenza. Come vuole arrivare questa squadra, quindi vediamo, speriamo. Iniziamo con questo nuovo progetto che è già un grande progetto per noi. Come ho detto, grazie a loro, ai nostri tecnici, ai nostri allenatori che mi hanno supportato e sopportato con questi anni, soprattutto le ultime che mi hanno supportato e la mia squadra. E' una propizione soprattutto di tutti, ma non eravamo pronti. Oggi lo siamo e ci lavoriamo sempre. Siamo pronti a migliorare. Grazie, grazie soprattutto alle ragazze che non si risparmiano mai. E adesso iniziamo proprio nel vivo della conferenza stampa. Do la parola al Vice Presidente Andrea Massiring da circa due mesi. Ha ricevuto la tele dal senere giumadire. Allora le chiedo, come sono stati questi primi presenti? Allora, intanto buonasera a tutti. Questi primi due mesi sono stati già bello, inclusi da Smart, che ho appena finito, ma c'è un percorso lungo da fare. Partiamo a presupposto che sono molto orgoglioso di aver preso questo incarico, perché crediamo fortemente nel settore giovanile, che non è un modo di dire, non è una frase fatta che si usa spesso, quando molte volte, penso da calcistiche, abbiamo visto un peso nel settore giovanile. Quindi, perché ha tratto a qualcuno e lasciato in un angolo, cerchiamo di far tanti, meno tanti possibili. Qui crediamo fortemente nel settore giovanile, e crediamo fortemente nel territorio, infatti la prima cosa che abbiamo fatto è quella di confermare le persone che lavoravano nella scogliaccio, darne tutto il supporto che possiamo e crearne tutti gli strumenti e le basi per crescere e per creare un futuro di contatto. Allora, crediamo fortemente nel settore giovanile e crediamo fortemente che debba esserci una pubblicità in tutto la scogliaccio, nei valori che la scogliaccio ha rappresentato sul territorio. Sono infatti molto contento che l'eventore sportivo e la squadra siano qui e ci sia questa immagine ideale con i ragazzi dietro che fanno casino, che hanno voglia, che hanno entusiasmo e che possono sognare di arrivare in prima fila, di arrivare in questo punto, in quest'altra parte. tutto l'entusiasmo, insomma tutta la forza che possiamo avere noi che rende da un sogno, dal fatto che tutti i ragazzi possono guardare alla serie B, guardare al palcio professionistico che ci hanno una serie B. Alla forza che hanno loro, ce l'hanno solo loro, non ce l'hanno nessuno. Quindi noi possiamo solo dargli tutti gli strumenti per crescere, per avere un posto come calciatore e la vita con il calcio, per essere ragazzi che possano crescere continuamente e vogliamo che lo facciano con il simbolo dell'asco di calcio. Quindi una delle cose che mi sento di dire oggi, oltre a fargli un conto a lungo, oltre a cercare di creargli tutte le possibilità per crescere, quello di volerli sempre più coinvolti nel mondo asco e quindi una delle iniziative che già abbiamo iniziato a fare l'anno scorso ma che vogliamo riportare è che tutti i ragazzi del settore giovanile siamo, per esempio, tutte le domeniche a Ventura, quindi saranno parte del mondo asco e stiamo vicini anche alla Ventura. La seconda parte, quella appunto di questi due mesi, è sul lavoro che stiamo facendo, quindi sulle persone che abbiamo scelto e che vogliamo che stiano con noi. Posso partire intanto dalla conferma dei responsabili del settore giovanile che è Gianmarco Malutti che già è all'asco da tempo. e che si è prodigliato e si provoca tutti i giorni affinché il settore giovanile Conte Nega Delorier vada avanti e poi due persone, due collaboratori che ci siamo portati che non vanno a sostituire nessuna persona che c'era prima ma che sono solo un valore aggiunto e che possono dare, stanno dando tutto ciò che serve, e tutti gli strumenti che ci sentiamo di dare allo staff e alle metodologie che sono Matteo Patti, in qualità di coordinatore tecnico del settore giovanile e Marco Regina che è in seconda fila che è responsabile della metodologia di tutto il settore giovanile. Sono due persone di cui ho estrema fiducia e che sono sicuro possono fare la differenza per il settore giovanile insieme a tutti i vecchi e a tutti i ragazzi che già collaborano con noi e che si spendono tutti i giorni sui campi. E allora chiamiamo subito Patti e scopriamo gli organigromi sportivi di tutte le squadre giovanile. Allora, le persone che faranno parte del settore giovanile sono il tutto del prodotto Lucio Sumaroli, il responsabile dell'Unione Ricciana che sta alberto di Cusati, i medici Luciani, i negozi Ferretti e Primieri, non per l'importanza ma le leggiamo sulle notarie con le due, lo stadio con il Polizzi, Marigo Verdi, Luigi Giorgi, Luca Pieri, Simone Settiavini, l'attività di base con il Tre Morsini, Ludiano Carpani, Matteo Ricciardi e Cristina Mamoni, Andrea Geri, Simone Panini, Riccardo Lazzarini, Giacomo Lenga, Luca Sabatucci, Gianluca Angelini, Sandro Alcorzi, Giuseppe Lanciotti, Cardolfo Sassone, sono il collaboratore dell'India. L'attività femminile è il coordinatore Giuliano Carpani, coordinatore tecnico Giago Morenga, Matteo Ricciardi, responsabile tecnico di una squadra, un'unità di gruppi. Grazie a Matteo Matti. Diciamo che non molto partiranno anche tutti gli altri campionati, prossimo 25 settembre, inizieranno gli under 15 e under 16, gli under 17 hanno avuto un risorgio poco fortunato, domenica e casano con il Perugio, però l'ha detto prima, il Vice Presidente Pasteri, voi avete in prima fila quello che è il nostro solo, allora chiamiamo in causa il Capitano Pianco Nero, Federico Dionisi, che ci racconta un po', ma è stato il suo percorso giovanile, grato e proprietario di un centro spuntivo a Lieti, noi parliamo di origini reatine, e soprattutto da poco è proprietario della nuova Lieti Caccio, e proprietario promotore. Grazie a tutti per averci fatto tutto, è un piacere di poter portare il tuo lavoro, che è una cosa che è stata un'altra cosa che è stata un'altra cosa che è stata un'altra cosa. La mia esperienza, come ricorda di eseguitori, i bambini che trovavano in Paggio, la professione di Pagio, la professione di Pagio, la professione di Pagio, la professione di Pagio, sono stato continuato, però quello che mi trovo, nel senso che anche di una scuola Pagio, tutto parte da una base, la natura di Pagio, una base, la stessa cosa che fate, alla base, come vedete, gli attività, gli ASC, questo e cose altre, poi il mio sogno si insegue, ma viene da sedere. Ho fatto un centro spuntivo, ho costruito una scuola Pagio, nel settore giovanile, proprio guardando voi, da parte dei ragazzi di Pagio, per dare una possibilità. Sicuramente siamo in realtà molto per il titolo di Pagio di Pagio, che va bene, perché noi ci siamo ispirati, per tanti punti di vista, e proprio a voi che fate spunto, a noi, di fare di più, di più, di più, a portare di mano, per crescere. Cosa per crescere, la materia cresce. Quindi, vi faccio un grande inblocca lungo, un abbraccio, e buon campionato a tutti. Direttore sportivo Marco Valentini, prego. Quello dell'Ascolinoce è sempre stato un settore giovanile importante, non vogliamo andare tanto indietro ai quali Iacchini e a Luisa, però negli ultimi anni ha sfornato i lanciatori importanti, nella squadra, abbiamo Treppe Pedducci, Enrico Parma, Danilo Quaranta, così adesso non è importante, e quindi è importante. Ora chiedo al direttore quanto è importante il rapporto, la prima squadra è prima vera. Dalla prima vera, di recente, sono arrivati Manzolini, Pagazzino, quindi quanto è importante la sinergia? Poi c'è stato una parola, la parola prima ha iniziato a fare tutti i segni, e io aggiungo un'altra parola, perché i partiti li sono pazziati, non sapete, bisognava venire a partire conciatori, per ascoltare i ragazzi, nel territorio, sempre a fare il campo, non avere pazienza, i ragazzi stessi, per fare le cose, per il tempo giusto, nel momento giusto. Devo avere pazienza anche le famiglie, nel loro forzare, facendo la volontà, nel vacanze, e le altre cose che, a pieni, non erano pazze, e, facendo le cose in un modo giusto, in un tempo giusto, spesso, facendo un esempio, di un ragazzo, che ho fatto io, il primo contratto, la professoressa, dieci anni fa, e ho voluto guardare la professoressa, e bisogna avere ossa di pazienza, per quello che riguarda i ragazzi, anche penaccia, perché le difficoltà sono, e saranno sempre orecchie, però non bisogna fermarsi alle prime, ma, l'altra parola chiave, poi concludo, mentre se no faccio, il poeta è il personaggio, quindi, seminare, vede pazienza, vede pazienza, vede pazienza, vedendo questi tre concerti, è probabile che, qualche frutto, la fine si raccoglia. Grazie. A voi. E allora tu rappresenti, il prodotto per eccellenza dell'ASCO, in fondo, vedevo anche i Cici e Giorgi, che conoscivano bene. Siete i miei giovanili, hai fatto tutta la prima fila, poi hai fatto una chiamata, da parte della Serie A, voi rappresentate un sogno, i ragazzi, però che consiglio di clienti di dare voi? Mi allaccio a, una delle cose che ha detto Federico, il direttore, che è molto importante, cioè quello di lasciare liberi, i ragazzi, e farli divertire. i genitori devono stare tranquilli, e fare crescere i ragazzi. Ti appoglio tutti i ragazzi! Sono grandi, tutti i ragazzi, e poi, loro sono giovani, magari c'è anche, che lo zio, il papà e il nonno, sa un po' della mia storia. Sono cresciuto, facendo tutte le squadre, da 7 anni fino a raggiungere il sogno di tossare mamma e prima scuola. l'augurio che posso fare a tutti i bambini, quello di direttore del mio ordine, i miei passi sulla Paglia dell'Ascoli, insomma, e vedere sempre che ho bisogno, perché anche nel centro del giovanile ho avuto dei momenti difficili, addirittura dopo i giovanissimi che ero stato scattato, ma non ho pollato e alla fine sono riuscito a fare quello che ho sempre sognato. Quindi, un grandissimo bocca al lupo a tutti, e a tutti i bambini presenti, coltivate sempre i vostri sogni! Grazie! Il percorso di Peppe Bellucci è stato quindi un percorso giovanile che è tutto al ditto e al bianco nero, e chi invece ha avuto un percorso diverso che dovrebbe crescere in fretta, perché parliamo di Marcel Buchel, nativo dell'Irteinstein, di Correggio privato, crescindio del settore giovanile che sta andare, quindi non proprio a casa, e poi nei secondi giorni del seno e della ruota? Sì, diciamo, in base, io ho fatto una vera città, come sommato, ho fatto quella città di trovare abitanti, la mia fortuna è stata che c'è una società che è costumissima che facciamo l'Austria per gli abit e provera i confine, si chiamano San Gallo, ho fatto due anni, anni e mezza là, perché ero peggiorno in Italia, una volta che ho finito, diciamo, 17 anni, 15 anni e mezza, sono venuto in Italia insieme, ho fatto un po' due anni da. Quanti statti magari decine a contegna a fare la famiglia e a dare i salvi in la città e la banca in seguito? Si, è stato molto difficile, anche perché, diciamo, io sono bello scuola, qualche, mi sono ritornato, torno solo, da una festa, con le malattie. È un paese, ma per la prima. Mi sento molto italiano e devo ringraziare tanto l'Italia che è mi sono riusciti, mi sono riusciti, mi sono riusciti, mi sono riusciti. Stai a dire che in ogni scimolo, tu ci devi raccontare uno delle scelte, ma non più per esempio, se tu hai detto che ci stai facendo un momento, ti è vacillato un po' questa tua madre e questa difficoltà la troviamo tutti, poi non è mai facile crescere in fretta, c'è più crescere prima che dopo. Io, in Italia, facciamo il mio. Il problema è che avevo un po' tutto lì, ci sono riusciti a fare un po' di tempo, diciamo che sono contento che mi sono arrivato e perché mi sono andato male, non mi lasco il pleno a nessuno secondo me stesso. Grazie. Grazie. Prima di seguire Cedric Bondo, invitiamo di nuovo Patti, che ci presenta invece alcuni organigrammi che abbiamo un po' di soluzione. Quindi, iniziamo a dimostrare fisicamente le persone che permettono a questi ragazzi di special, quindi adesso chiamiamo gli allenatori e così lo trovo. Il Mister Fertolizzi della Primavera. Il Mister Berti della Primavera. Luigi Giorgi del 2016 del San Antonio Kindini Luca Piero dell 2015 e Simone Settacini del 2015 Aggiungo anche Remorsini per l'attività di base e Tim Guzzi per l'attività per il libro. Marco Lucchino, responsabile della metodologia. Grazie, grazie a tutti. Allora, andiamo avanti invece con i calciatori dell'Ascolo. Non so quanti ricordano che un po' di anni fa, quando militava il settore giovanile della Fiorentina, Sidri Mondo ha partecipato alle attività del suo aiutino. Prego, prego, chiedi. Ara Yeah! Ragazzi! Per la prima esperanza, c'è un pane della prese. E poi, hai detto, cosa voglio fare da You? Qual è stato il tuo percorso in giovanile al di là di questa esperienza teresima? Ci sono stati dei momenti di difficoltà, tu ti sei trasferito in Italia e avevi più o meno 7 anni. Hai sviluppato dei momenti di massimo tanto percorso? Sì, ho sviluppato una città in cui parlo in Europa. Mi sono subito prendato, per esempio nel mio Stato. Grazie, l'Amba, il governo mi ha dato. L'Europa è stata una cosa migliore. L'Europa è stata una scelta del colotto che forse si può essere fatta. Grazie, grazie per la visione. Sappiamo che ci sono un paio di ragazzi che hanno delle domande per i nostri canzatori. per i nostri canzatori, per i nostri canzatori. e... per l'unica vita perché... ... 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 parola a chi è? no, grazie, è un po' la stessa sua consola quindi questo finora a questa raggio fatto un'altra domanda di serena, io giusto la posizione della sbagliata mi voglio accorporarsi e sicuramente la mia cultura è la primavera di una presenza che non è la mia cultura c'era un po' di musica, un po' di misure sono cose fatte, di una roba e delle nuova, c'è l'ho di insegnamento perché sa tolte lo so e l'ho anche la forza è più importante e la fatta della federa Grazie, il tuo nome Emanuele, ecco la domanda, allora qual'è stata la vostra prima emozione riguardo a chi ha chiamato mascheri? Allora, l'estazione è stato molto bello, perché io mi ero scelto, c'è stato il gioventù che mi sono passato qui e mi hanno sempre preparato benissimo a giocare del patrone, quindi è un po' di volona di arrivare, sono molto bello di venire ancora qua, di venire a giocare. Grazie. Grazie, adesso la parola invece ai giornalisti, se hanno domande, non vi nascondete. Buonasera a tutti, sono il senatore di Luciano Roche, la domanda è adesso qui alla società, se magari pensate, non se volete fare niente, se non ci state bene a ruoto, se volete trovare qualche orsolino e qualche giocatore, insomma, da questi strutture giorni che posso trovare. Patron? Sì, che lo prendiamo già diversi, gli orsolini, che presto danno la luce. Alcuni sono già arrivati in prima scuola, speriamo che riescano alle scuole per trovare il loro percorso. Soprano, come ha detto prima il direttore, sicuramente occorre la pazienza. Tempo, lavoro, tanto impegno e soprattutto determinazione, perseveranza, possono portare poi a caricare campi più importanti, tipo quello nostro delle tre di. Grazie. Guadalco Suprano, lui con il тебе di tanto Rodrigo, anche così szybero, è strutturato. E' stata già detta di un сердце, quell'articietto io che riconosceremo spesso le scene delle nostre giovani noi ragazzi siamo proprio qui o qui ma gli attenti. Allora, l'appello di invito è quello di pensare di avere un figlio, non per farci un campione in casa, di lasciarli divertire e crescere spontaneamente. Allora, se diventano l'innovazione, lo diciamo, è quello di pensare. Buon pomeriggio Marco Vandini, mi c'è una domanda per il Vice Presidente Passeri. Una considerazione tecnica, avete analizzato se tutte le persone, se il produttore giovanile, diciamo dalla primavera da Super14, dal punto di vista tecnico, andranno ad utilizzare più o meno lo stesso modulo della prima squadra? Ci sarà un continuamento in tal senso o più avrà una libertà di scelta? Allora, chiaramente queste sono domande più tecniche, più specifiche, quindi non trovo in dettaglio. Non credo ci saranno in posizione, perché anche è giusto che tutti i tecnici abbiano la loro libertà di scelta e di poter sperimentare, di portarli a improntare loro. Chiaramente quello che portiamo a tutto il settore giovanile, alla primavera di base, è un'impreme, una tecnologia, dei concetti e dei lavori condivisi che poi si trasformano in primavera di principi la città, ma poi di inquadrare tutti gli allenatori, secondo lo stesso membro, lo stesso luogo, lo stesso modo di allenare, sarebbe il permettivo degli allenatori che toglieresti il valore ai tecnici e a quelli che possono portare di loro. Chiaramente vogliamo giocare un percorso non diviso, dai più giovani, dai più grandi, per non lasciare i ragazzi solo tornare nel campo in noi, per non avere problemi a crescere, mentre si devono sventilare gli altri percorsi, non importa se li allenano l'altro, ma è la stessa filosofia, è la stessa ripostazione, ma è giusto che poi li allenano i propri valori e il proprio vero. Amici! Allora, le domande sono terminate, quindi darei la parola al padronio, ci sono tutte amiche, darei lei la parola per la visita. Allora, io vorrei dare a tutti i bambini di riprendere l'ultimo tempo, perché ho messo in molti e la parola per attenti. Chi è in grado di riprendere? Scherzo ovviamente. Vi ringrazio davvero, sono felice di essere qui con voi, e soprattutto questa energia così giovane è per me una grandissima emozione. Di conseguenza, grazie a voi, grazie alle vostre famiglie, che sicuramente fanno dei sacrifici per permettersi di mettervi questo, grazie per starci vicino, soprattutto quando facciamo qualche cosa che fa sbaglia, che non fa giudica. Grazie di cuore, forza Ascoli, che crediamo di venire insieme, perché saranno bene questi giorni. Grazie. Grazie ancora alla famiglia di apoletri, sono a seguitarti, sono a farlo che ci sta vivendo. Grazie. 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 Grazie a tutti